Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente come vi avevo promesso riesco a portarvi un video sull'attrezzatura tecnica e oggi parleremo di bacchette, un attrezzo che spesso viene sottovalutato e tante persone magari le guardano, guardano chi usa le bacchette come persone un po' buffe e sinceramente anch'io pensavo così, però dopo averle utilizzate un po' di volte, specialmente in cammini lunghi e con zaini particolarmente pesanti vi sono reso conto di quanto facciano la differenza. Questi ragazzi in salita ci aiutano tantissimo a non distruggerci le gambe e quindi a superarla un pochino meglio e in discesa specialmente aiutano le nostre ginocchia e le nostre articolazioni in generale. Quindi oggi vi farò vedere queste bacchette che sono le Apernaz 200 della Decathlon e adesso andiamola a vedere nel dettaglio. Parlando di questo modello è diviso in tre sezioni, c'è quella finale dove si collega anche la nostra punta con la rondella, quella intermedia e quella superiore che presenta più fori ha l'impugnatura e la fettuccia. I materiali di cui sono costituite sono punta in tungsteno, il materiale vero e proprio della bacchetta è in alluminio, impugnatura e schiuma e parte superiore come alcuni pezzettini in plastica, cioè in ABS. Queste bacchette sono particolarmente interessanti e dopo parleremo meglio del prezzo, non solo per quello ma anche per una questione di leggerezza. Pensate infatti che pesano soltanto 230 grammi e per una bacchetta di questo tipo è veramente un peso ottimo. La lunghezza minima da chiusere queste bacchette è di circa 56 centimetri, la lunghezza intermedia tenendo chiuso il primo segmento e prendendo soltanto il secondo è di 80 centimetri e poi una volta aperta tutta la bacchetta raggiungeremo le altezze di 110 centimetri, 115, 120, 125 e 130. Ora considerate ragazzi che queste hanno un tipo di chiusura fatto a scatti, quello un pochino più classico e anche più economico. Non hanno invece quello a morsetto, quindi diciamo che non possono essere allungate con una precisione millimetrica, ok, avrete già delle altezze preimpostate ma questo nella mia esperienza non ha mai rappresentato nessun tipo di problema, sia proprio per camminare sia anche per posizionare le tende, quindi con esigenze un pochino più particolari. A differenza del modello inferiore di queste, cioè delle Apernaz 100, queste hanno varie migliorie. La prima tra tutte è il cordino, la fettuccia, infatti l'Apernaz 100 ha proprio un cordino piccolo, quindi se vi ci appoggiate con un po' troppa forza dopo un po' potrebbe darvi fastidio ai polsi. Questa invece ha una fettuccia che oltretutto è anche regolabile, quindi è particolarmente comoda. Successivamente troviamo le rondelle che vengono regalate insieme a queste bacchette che sono rimovibili. Infatti queste rondelle possono essere tolte e possono essere utilizzate delle rondelle di questo tipo, acquistabili per circa 3,99 euro se non sbaglio, e quindi queste bacchette, oltre a bacchette da trekking classiche, possono diventare delle bacchette buone anche per ciaspolate o comunque utilizzo sulla neve. Un altro accessorio che si può acquistare per queste bacchette sono questi tappi. Anche questi sono circa 3,99 euro. Secondo me questi tappi, anche se vengono venduti, non sono assolutamente necessari. Come mai? Perché io con queste bacchette ho fatto un sacco di camminate, poverete, hanno macinato un sacco di chilometri, e la punta, che è in Tuntzeno, non ha mai mollato un colpo. L'ho utilizzata senza tappi su asfalto, l'ho utilizzata su tutto il Central Alta Versiglia, sulla Via degli Dei, su tutte le apuane, che comunque sono molto rocciose, e non hanno mai dato alcun tipo di problema. Quindi da questo punto di vista potete stare tranquilli. Allo stesso tempo la stabilità della bacchetta è comunque ottima, perché nonostante io mi ci sia appoggiato con tutto il peso, e anche col peso dello zaino in discesa, in salita, e ci abbia tirato su delle tende, non si è mai storta in maniera così terribile. Ogni tanto un po' di inclinazione la prendeva, però bastava magari col ginocchio raddrizzarla, e da questo punto di vista non mi ha mai dato enormi problemi. La fettuccia ovviamente, essendo particolarmente robusta, non mi ha mai abbandonato, e anche l'impugnatura, nonostante sia fatta in schiuma, non si è mai sgretolata, nonostante io comunque sudo anche tanto con le mani, quindi se sia spesso e volentieri impregnata di sudore, non ha mai ceduto minimamente, quindi queste bacchette per quel che costano sono fantastiche. Ed è proprio di questo che adesso voglio parlarvi, e cioè del costo. Voi pensate che una bacchetta del genere, quindi resistente e leggera, si trova a 9,99€ da Decathlon. Ragazzi fidatevi, questo è un prezzo bassissimo. Altre marche vi danno delle bacchette con delle prestazioni uguali, se non inferiori, a 30-40€ a paio. Specifico a paio perché queste invece Decathlon le vende separatamente, infatti io ne ho due. Come mai le vende separatamente? Beh, sicuramente è un ragionamento intelligente, perché ci sono camminatori che non si trovano bene a utilizzarne due, magari per un semplice appoggio ne usano una soltanto, e quindi se vi si rompe quella che voi utilizzate, basterà comprarne un'altra. Altre marche invece appunto le vendono a coppia, e facendo così ne avrete sempre una in esubero. Bene, il grosso di queste bacchette ve l'ho raccontato, ora vi do qualche consiglio. Queste bacchette possono essere utilizzate tranquillamente anche per aiutarvi nel guado magari di torrenti o di fiumi, soltanto una parte importante per far sì che durino il più lungo possibile è anche la manutenzione. Quindi se le utilizzate sotto la pioggia o le immergete in acqua per qualsiasi ragione, ricordatevi una volta che tornate a casa di separare le tre sezioni. Facendo così si asciugheranno, non si verranno a creare muffe o cose strane all'interno, e la durata della vostra bacchetta aumenterà significativamente. Inoltre ogni tanto se avete delle mani che sudano vi consiglio quando tornate a casa di sciacquare anche l'impugnatura, che appunto essendo in schiuma un pochino tende ad assorbire, quindi se gli date una bella lavata male non gli fa. Come ultima cosa io in cima alla bacchetta, subito sotto l'impugnatura, ci metto sempre un pochino di nastro americano. Il nastro americano è un nastro particolarmente resistente che è super polivalente, quindi potete utilizzarlo per farci qualsiasi cosa, addirittura può essere utilizzato come esca per il fuoco e anche per le riparazioni. Infatti considerate che questo funziona e attacca praticamente ovunque, con questo sono state aggiustate tende, zaini, pezzi di scarpa, quindi avere questo, avere il nastro americano dietro e averlo praticamente sempre a portata di mano sotto la bacchetta, è una cosa che sicuramente può valere nella pena. Bene, prima di chiudere con questo video vi lascio con un'ultima piccola chicca, e cioè come impugnare e utilizzare correttamente le nostre bacchette da trekking. Quindi una volta che saremo pronti a camminare basterà aprirle ad un'altezza giusta. L'altezza giusta qual è? È quella che ci crea tra il nostro avambraccio e il nostro braccio un angolo di 90 gradi, quindi questa cosa è importante. Considerate che magari quando siete in salita andrebbero concettualmente un pochino accorciate, perché il nostro braccio andrà più in alto, e quando siamo in discesa per frenarci andranno leggermente allungate, ma queste sono cose che vedrete anche col tempo. Gestito quindi l'aspetto dell'altezza, che comunque è importante, andiamo a vedere anche il modo in cui vanno impugnate. Quindi prendiamo la nostra fettuccia e non va presa così, non va presa così, ma semplicemente bisogna dalla parte bassa inserire il nostro polso e prendere la fettuccia in questa maniera. Quindi facendo così noi andremo ad appoggiarci e quando andiamo proprio a camminare non serve che la stringiamo sempre la bacchetta, basterà semplicemente nei momenti di spinta che noi ci appoggiamo con la fettuccia, quindi che appoggia qui e ce n'è tutto molto più comodo e molto più efficace. Bene ragazzi, spero che come sempre questo video vi sia stato utile. Se mi sono scordato qualcosa lo scriverò per qui. Se avete qualche richiesta di attrezzatura da ricensire o di argomenti su cui dovrei parlare, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Come al solito, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!